Amici di Teletrash, buongiorno qui dal vostro inviato speciale Rocca Alessia. E tanto per cambiare, ho scovato una situazione di quasi totale degrado e abbandono. Guardate, questo Iveco 115-17, turbo, giace nel degrado e abbandono delle campagne. C'è ancora la targa che non firma per ovvie ragioni e il camion è qua, che giace nel degrado e abbandono da anni. Amici di Teletrash, buona domenica a tutti.